Vabbè è un cazzo di vero perchè mi hai già rotto le palle Se fai sti video qua vanno... ti ricatta Mi fai più Ti è soddisfatto? Sì Non lo so Io non lo so Nel prossimo anche Mirale Mirale manca poco Normal Normal Tra qualche anno anch'io eh Eh lasciamo stare Tra qualche secolo trovarlo 10 minuti Sì Non ci hai fatto caldo Ma questo è il regalo Basta asciugarti i pappi Lasciali per me